In un'area vasta quanto un campo di calcio, rifiuti di ogni tipo, materiale plastico, metallico, edile, elettrodomestici, ferro arroginito, pneumatici, vetro, carcasse di automobili, a scoprirlo nell'entroterra pescarese le fiamme gialle del comando provinciale che hanno sequestrato la discarica abusiva già in passato nel mirino dei finanzieri del reparto operativo aereo navale ma mai ripristinata. Il titolare della ditta individuale operante sul terreno sequestrato è stato denunciato all'autorità giudiziaria locale per il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti. Sono tuttora in corso accertamenti per verificare i possibili danni all'ambiente a seguito della prolungata infiltrazione di sostanze tossiche nel terreno e nelle falde acquifere.